Siamo al Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia con Cristina Rosetti che è candidata a sindaco per il Momento 5 Stelle. La prima domanda che mi viene in mente è che ieri c'è stato un incontro a Balanzano con molte persone. Quanto ci credete? Pensate di poter vincere le comunali? Noi piano piano che stiamo facendo l'assemblea vediamo che la gente partecipa, c'è molto fermento, ci fanno arrivare il sostegno anche senza mostrarsi perché purtroppo questa è una città dominata e controllata dove le persone hanno travolta paura di esporsi però stiamo veramente andando molto forte e io penso che spugneremo Perugia e prenderemo il prossimo anno la regione, ne siamo sempre più convinti. So che è una domanda troppo semplice da farle però secondo lei quali sono le ricette per migliorare Perugia e soprattutto se per lei Perugia è da migliorare o va bene così? Perugia è assolutamente da migliorare, ha delle potenzialità in espresse che noi dobbiamo per forza mettere a regime e a sistema perché dobbiamo diventare una capitale europea vera, non solo della cultura per un anno ma una capitale europea vera abbiamo beni culturali da mettere a sistema, abbiamo un turismo che va ricostruito, va ricostruita l'accoglienza abbiamo la cultura che può fare da volano di sviluppo, dobbiamo assolutamente creare posti di lavoro, si può fare dobbiamo liberare il mercato, dobbiamo far sì che le imprese ricomincino a concorrere perché purtroppo il dominio politico fa sì anche che non vi sia concorrenza, concorrenza nei servizi che vuol dire anche ridurre le tariffe, contenere la pressione fiscale perché noi abbiamo una delle più alte pressioni fiscali dei comuni d'Italia e queste risorse devono essere messe a regime dobbiamo liberare risorse evitando sprechi, inefficienze, dobbiamo ricominciare una governance delle controllate le nostre società partecipate hanno un rating bassissimo, questo perché manca una governance da parte del Comune di Perugia non lo dice Cristina Rosetti, non lo dice il Movimento 5 Stelle, lo dice la Corte dei Conti il 14 febbraio 2014 Noi siamo di Radiofonica.com e lei so che ci ascolta sempre tra un comizio e un altro quali sono le ricette che può spiegare al nostro pubblico giovane riguardo la mobilità dei giovani ma anche la vita in centro eccetera, la vita serale in centro e la sicurezza del centro? La sicurezza del centro storico va ricostruita recuperando gli spazi, ci sono spazi pubblici che purtroppo sono stati svuotati dai cittadini e sono stati occupati per attività illecite i giovani hanno bisogno a Perugia, soprattutto nel centro storico, di centri di aggregazione veri hanno bisogno di protagonismo e noi su questo puntiamo, puntiamo proprio su di loro, sulla loro capacità creativa puntiamo sulle start up, puntiamo su un sistema dei giovani che dia innovazione e creatività a questa città La sera purtroppo non ci sono attrattive diciamo culturali adatte ai giovani questo viene denunciato anche dagli studenti universitari in una recente indagine che è stata fatta noi dobbiamo assolutamente attorno a loro costruire quello che per loro è necessario e nel nostro programma c'è anche per esempio la creazione di un piano per i servizi per gli studenti dell'università di Perugia, non solo una università, abbiamo due università quindi un piano di servizi per gli studenti italiani che denunciano gravi inefficienze ma anche per gli studenti stranieri che devono cominciare anche a collaborare tra di loro perché devono essere loro i protagonisti del cambiamento Le faccio una domanda molto originale, quali sono le prime tre cose che farebbe una volta entrata a Palazzo dei Priori? Innanzitutto dobbiamo creare un nuovo sistema di governo, un'amministrazione condivisa rendere i cittadini partecipi del recupero, della riqualificazione dei nostri beni che sono tanti dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza le nostre strade, le nostre vie i cittadini devono poter camminare per le nostre strade e le nostre piazze con assoluta tranquillità dobbiamo dare e rivitalizzare il punto di riferimento, il centro del centro storico di Perugia che è anche il cuore della città che è il mercato coperto per cui noi abbiamo idee per una polifunzionalità, questo vuol dire che dentro ci dovrà essere ricreato un mercato vero con prodotti di agricoltura biologica a chilometro zero prodotti artigianali di artigianato tradizionale e artistico dobbiamo creare dentro dei servizi, dei luoghi di co-working dobbiamo rivitalizzare il teatro che molti non conoscono lì dentro nella struttura del mercato coperto c'è un teatro lo dobbiamo creare come centro di aggregazione per tutte le fasce d'età sia per i residenti del centro storico, per gli studenti ma anche per i cittadini che vivono, non vivono nel centro storico dobbiamo ricollegare le diverse parti della città perché purtroppo lo sviluppo urbanistico folle di questa città ha determinato uno sfilacciamento non solo delle relazioni sociali ma ha reso le nostre città, i nostri quartieri, le nostre frazioni anonime di nuovo non lo dice Cristina Rosetti, non lo dice il Movimento 5 Stelle lo dice la fondazione che sta curando la candidatura di Perugia e Assisi a Capitale Europeo e la Cultura Grazie Cristina Rosetti